Cinema, limbo immaginario di grandi sogni e intime passioni, consumate su pochi metri quadri di tela bianca, ingiallita dal fumo. Bello, eh? Peccato che non l'ho scritto io. Prima milanese agli Archimboldi ieri sera 22 novembre per Ciaxi Gira, il one man show del grande trasformista torinese Arturo Brachetti, l'uomo che il Guinness Book of Records annovera come il più veloce trasformista del mondo, un Peter Pan di 54 anni, come ama definirsi lui stesso. In Ciaxi Gira Brachetti accompagna il pubblico in un viaggio nell'universo del cinema, i toni sono autobiografici e raccontano con i suoi mille cambi d'abito, le ombre cinesi, le piccole magie, i più grandi personaggi della scatola magica. E se ero con la mia fantasia a Londra, immaginavo di essere il più bello orologio di Londra, sto parlando del Big Bang of London. E da Londra a Hollywood, eccomi come Gloria Swanson nel viale del tramonto. Ecco questi sono gli intellettuali. Ciaxi Gira, riduce da oltre due mesi di successo straordinario a Parigi, sarà a Milano fino a domenica 4 dicembre.